Cari amici per i trovati, un lieve indebolimento dell'anticiclone che in questi giorni sta interessando al nostro paese permetterà l'inserimento di un sistema frontale proveniente da Ovest. Ancora per la giornata odierna e per venerdì special sud, il tempo si manterrà comunque bello, con temperature superiori alla norma. Il passaggio del sistema frontale porterà rovesci sparsi al nord a partire da venerdì e con il passare delle ore anche al centro. Sabato le condizioni di instabilità al nord e al centro verranno rinnovate a causa dell'intervento dell'aria fredda dal nord Europa. Ancora per nulla coinvolto il meridione, ma ne riparliamo. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Velatura al nord-ovest, bello altrove. Nelle prossime ore intensificazione della copertura nuvolosa al nord con possibili rovesci nella notte su venerdì. Al centro-sud soleggiato, sulla nostra provincia cielo sereno e soleggiato con temperature in ulteriore aumento comprese tra 25 e 9 gradi. Venti deboli soffieranno dal sud-est ed il mare nello stretto di Messina sarà calmo. Sul versante tirrenico soleggiamento diffuso. Le temperature si porteranno ai 20 gradi le massime e 11 le minime. Venti moderati soffieranno da nord-est e da est nella sera di debole intensità ed il martirreno sarà calmo. Sul versante ionico soleggiamento diffuso con temperature comprese tra 20 e 10 gradi. Venti moderati soffieranno da sud-sud-est e sempre da sud-sud-est nella sera ma di debole intensità ed il marionio sarà poco mosso. Nella giornata di venerdì 17 aprile nuvolosità al nord e dal centro con rovesci sparsi specie al centro. Bello e caldo al sud. Sulla nostra provincia giornata serena e soleggiata con solo qualche velatura di passaggio in serata. Le temperature in ulteriore aumento si porteranno ai 26 gradi diurni e 11 nella notte. Venti deboli soffieranno da sud-sud-est ed i mari saranno poco mossi sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani. Grazie per averci seguito.